Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che si apre con le dimissioni del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Dimissioni messe nero su bianco nella tarda mattinata di oggi, dimissioni che arrivano dopo che il primo cittadino ha preso atto di non avere più una maggioranza che lo sostenga. Si chiude così il Brucchi Bis anche se ci sono 20 giorni di tempo per il sindaco per ripensare e ritirare le dimissioni. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. La lettera di dimissioni il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi l'aveva già scritta ieri dopo aver constatato di non avere più una maggioranza in consiglio comunale. Ha aspettato 24 ore prima di inviarla ufficialmente, ha provato in estremis a ricomporre le cose ma poi si è arreso. Con queste parole oggi si dimette da primo cittadino e saluta la città. Dopo una lunga e sofferta riflessione, dice il sindaco, in considerazione della situazione politica che si è venuta a creare all'interno della coalizione di centrodestra al comune di Teramo, questa mattina ho rassegnato a sua eccellenza il prefetto di Teramo e al presidente del consiglio comunale le mie dimissioni da sindaco. La direzione e l'amore verso la mia città ritengo di averla dimostrata in 17 anni di amministrazione. La costanza, la coerenza, l'onestà e il grande lavoro hanno caratterizzato il mio essere consigliere comunale, assessore ed infine sindaco. Ringrazio prima di tutto la mia famiglia, i miei concittadini, la coalizione che mi ha sostenuto, il Movimento di Forza Italia, in particolare il presidente Silvio Berlusconi, i cui valori hanno ispirato la mia azione politica. Non ultimo ringrazio l'intero consiglio comunale e tutte quelle persone che hanno lavorato al mio fianco in questi anni. Lascio con profondo dispiacere il rammarico in un momento in cui la città avrebbe bisogno di una guida per portare avanti le difficili sfide del post-sisma, ma consapevole di aver dato tutto me stesso per la mia amata Teramo. Ora il sindaco Brucchi ha 20 giorni per ritirare le sue dimissioni e c'è chi dice che abbia un ultimo asso nella manica per vincere la partita e restare in sella. Un appello alla responsabilità, alle opposizioni, ma soprattutto ai dissidenti, ricordando loro il drammatico momento che la città sta vivendo, con tanto da ricostruire. Missione quasi impossibile. Ed ora siamo ai trasporti. Rinviato lo sciopero promosso dai trasporti in programma il prossimo 26 di aprile, nel giorno del secondo congresso interregionale della FIT CISL, che si è tenuto questa mattina a Francavilla al mare. Il sindacato ha esposto tutte le sue perplessità rispetto al tema del trasporto pubblico. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Un incontro con la CISL. In questo caso si parla di trasporti e si parla di quello che era uno sciopero annunciato. Si cerca di tornare indietro e di trovare un accordo con la Regione. Stiamo lavorando ad evitare lo sciopero, ma più che evitare lo sciopero, a risolvere i nodi che lo sciopero pone, soprattutto con riguardo alle risorse. C'è un problema di minori risorse trasferite a livello nazionale, però di impatto a livello locale. Sono i fondi regionali che mancano. È lì, perché dalla Regione Abruzzo nel 2016 e nel 2017, c'è una carenza di fondi di circa 15 milioni e mezzo di euro. Adesso dobbiamo vedere come sopperire questa carenza economica. È chiaro che la Regione Abruzzo ci deve mettere i soldi, altrimenti deve tagliare i chilometri. Non c'è altra via d'uscita. Su questo credo che possiamo dare una risposta ampia, da 10 a 20 milioni di risorse disponibili per l'acquisto dei nuovi mezzi, invece sulle risorse che finanziano il trasporto pubblico locale ci sono più problematicità. Il 26 ci sarà questo incontro, vediamo se riusciamo a evitare. Intanto oggi abbiamo approfittato per confrontarci su alcune questioni e soprattutto sul futuro. Secondo voi quale sarà la posizione della Regione durante l'incontro? Allora, la posizione della Regione è chiara che la dobbiamo fare il 26, quindi siamo già programmati 4 ore di sciopero, c'è questa convocazione, l'abbiamo posticipato allo sciopero. La Regione è sempre disponibile a raggiungere un accordo, ma anche noi deve fare un piano regionale di trasporti, riferimento ai soldi che ha su ferro e su gomma e creare questa intermodalità. Però è chiaro che ci deve portare i soldi, bisogna vedere realmente che cosa ci mette sul tavolo. Il commissario regionale Claudio Ruffini è giunto al termine del suo mandato al Consorzio di Bonifica Centro di Chieti e questa mattina ha fatto il consultivo dell'attività svolta. Sentiamo Paolo Renzetti. I ringraziamenti dipendenti e soprattutto le associazioni di categoria presenti mi ha fatto particolarmente piacere perché quando sono arrivato qui ho trovato molto disorientamento perché il Presidente, il Direttore e il responsabile del depuratore erano stati raggiunti da provvedenti giudiziari e poi ai provvedenti giudiziari era arrivato anche il provvedente della regione Abruzzo che interrompeva l'attività di depurazione conto terzi, cioè quella provvedente dagli esterni, dal mondo produttivo, della depurazione presso l'impianto San Martino di Chieti che significava circa oltre 4 milioni l'anno di entrate. Ho lavorato per far ridurre i costi di gestione, lavorando sul personale, lavorando sulla riscossione diretta della contribuenza, lavorando anche attraverso i regolamenti per quanto riguarda la gestione di autorizzazioni varie, quindi recuperando circa un milione e mezzo di costi in meno e poi lavorando in concerto con l'amministratore giudiziario per far sì che quella autorizzazione regionale, l'AIA, fosse, diciamo così, revocata, cosa che è avvenuto in data 21 marzo. Quindi l'attività esterna del depuratore è ripartita, anche se progressivamente, con maggiori accorgimenti, più stringente dal punto di vista dell'immissione delle acque e anche con il controllo molto più puntuale di quelle acque depurate rilasciate sul fiume. Questa è stata l'attività prevalente senza tralasciare un'attività importante del Consorzio sugli investimenti. Stiamo lavorando, si sta lavorando al Consorzio, con circa oltre 20 milioni di investimenti che riguardano ampliamente la rete in rigua, ampliamente il depuratore, interventi presso la diga di penne. Sono queste le principali attività che ho cercato qui di svolgere, che si possono trovare attraverso atti da me compiuti come commissario, che sono esattamente 140 delibere. Ed ora parliamo del porto di Pescara. Giovedì 27 aprile ci sarà la firma del contratto per quanto riguarda i lavori alla diga foranea, lavori per i quali sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro di fondi europei. Vediamo. È prevista per il 27 aprile la firma del contratto con l'impresa giudicataria per la progettazione esecutiva dei lavori finalizzati all'apertura della diga foranea di Pescara, per la quale sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro di fondi Parfas. Oggi è stato presentato anche il progetto per i moli guardiani, opera inserita nel masterplan, il cui soggetto attuatore è l'Arap, e per la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro. A darle notizie è stato il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, in apertura della riunione convocata per fare il punto della situazione sugli interventi necessari per la realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale. Al momento le risorse a disposizione sono pari a 15 milioni di euro, ha detto il presidente della regione, ma siamo impegnati al reperimento delle ulteriori provvidenze necessarie per completare l'intervento. Quella odierna, ha spiegato D'Alfonso, è infatti una riunione preparatoria della conferenza dei servizi, che si terrà a breve. Dal momento che stiamo decidendo su un importante investimento infrastrutturale che inciderà su un pezzo di economia che va ben oltre la città di Pescara, ha affermato ancora D'Alfonso, intendiamo versare in atti quel patrimonio conoscitivo che l'Arap, incaricata dalla regione, ha conseguito, che ora dispiega a favore di tutti i soggetti interessati dall'esecuzione dei lavori. Nello specifico ci si riferisce ad Arap, Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, provvidorato alle opere pubbliche, Arta, Genio Civile, Soprindentenza, Comune, Provincia, Camera di Commercio, Marineria e ad ulteriori portatori di interesse. Come ha precisato il presidente dell'Arap, Giampiero Leombroni, si tratta di opere che hanno come presupposto progettuale il piano regolatore portuale di Pescara e per le quali è stato valutato un costo complessivo di circa 35-40 milioni di euro. I 15 milioni di euro di risorse attualmente disponibili sono finalizzati alla realizzazione per i Moli Guardiani. Per le risorse restanti, il presidente D'Alfonso ha assunto l'impegno di reperirli entro la fine dell'anno. Condivisione comune di tutti i soggetti partecipanti è stato il cronoprogramma dei lavori che dovrà assicurare contestualmente alla realizzazione delle opere la sicurezza degli operatori della marineria. Tuttavia, prima di arrivare al bando di gara per l'esecuzione dei lavori, occorrerà procedere ad una serie di adempimenti che vedranno impegnati tutti i soggetti citati, le cui attività consentiranno di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie. Torniamo a Chieti, dove il PD, in una conferenza stampa organizzata in mattinata, ha espresso il proprio sostegno al project financing per il nuovo ospedale del capoluogo teatino. Sentiamo il servizio. Febo, qual è la posizione del Partito Democratico sul nuovo ospedale di Chieti? Noi vogliamo che la regione se ne occupi come se ne sta occupando e realizza al più presto un nuovo ospedale a Chieti. Questo significa dare la soluzione ai problemi che ci sono oggi. Noi oggi abbiamo, ma non oggi, dal 2012, e questo io rimproverò sia a Chiodi che a Febbo, che non se ne sono occupati uno presidente della regione e l'altro consigliere regionale, abbiamo una struttura che ha seri problemi strutturali. Oggi si decide, ma già dal 2015 si è deciso e la regione ha deciso di investire sulla città di Chieti realizzando un nuovo ospedale. C'è dunque una disputa con il centrodestra di Chieti che non la pensa come voi? È evidente questo. In questi ultimi mesi lui ha buttato fumo agli occhi dei cittadini cercando di raccogliere il consenso elettorale a discapito della qualità della sanità a Chieti. E si è visto poi mercoledì in Consiglio Comunale dove Forza Italia e 5 Stelle hanno votato un ordine al giorno che dice no a un ospedale nuovo a Chieti. A questo punto cosa farete per portare avanti la vostra battaglia e poi portare avanti le vostre idee? Noi continueremo sul solco già intrapreso con la regione che dopo che ha inaugurato e aperto definitivamente il nuovo polo del cuore a Chieti che è sotto gli occhi di tutti ed è una realtà che è sulla nostra città quando invece il governo di centrodestra lo voleva chiudere addirittura Febbo proponeva di metterci un centro per gli anziani un centro di ricerca per gli anziani oggi il polo del cuore è una realtà noi faremo e chiederemo e continueremo a chiedere alla regione di investire sulla città di Chieti e di realizzare un ospedale nuovo che darà sicuramente una certezza alla nostra città di avere una sanità di alta qualità. Un quotidiano online accusa la SAGA società di gestione aeroportuale di inadempienza verso l'obbligo di trasparenza in merito ai contratti stipulati con i vettori a rispondere questa mattina è stata proprio la società aeroportuale che ha spiegato punto per punto tutti gli obblighi onorati dalla SAGA ricordando che si tratta di una società di diritto privato a controllo pubblico. Precisazioni da fare da parte della SAGA sulla trasparenza e su accuse che in qualche modo vanno a ledere l'immagine del lavoro che si fa all'interno dell'aeroporto una normativa in realtà che tutela quello che è stato il lavoro fatto fino ad oggi e punto per punto viene spiegato come è stata in qualche modo portata a termine. È una normativa complessa, articolata siamo una società altamente vigilata da diversi organismi e pertanto rientra ai nostri compiti e lo facciamo evidentemente giornalmente nel cercare di rendere sempre aderente gli atti della società alle normative che mutano anche nel tempo e in questo caso su questa materia anche abbastanza velocemente e frequentemente. Si è parlato di inadempimenti e di in qualche modo un coinvolgimento dell'ANAC e poi è stato spiegato proprio quello che è attualmente il dispositivo in corso e soprattutto quando si parla di contratti con vettori SAGA ha spiegato punto per punto come sono in essere. Per quanto riguarda il rapporto con l'ANAC la società non ha mai ricevuto delle lettere nelle quali ci veniva comunicato in inadempimento. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione ci sono le linee guida del Ministero che chiaramente citano il fatto che non vi è alcun obbligo di pubblicazione dei contratti vi è stato per un certo periodo dal 2 ottobre del 2014 fino all'11 agosto del 2016 la richiesta di pubblicazione degli effetti degli incentivi ma in quel periodo la SAGA non ha sottoscritto alcun accordo con alcun vettore pertanto è per questo motivo che non ha dovuto pubblicare alcun elemento. Con le nuove linee guida dell'11 agosto del 2016 il Ministero dei Trasporti ha chiaramente indicato che tutti quegli accordi che rispettano il test dell'operatore privato non sono aiuti di Stato e quindi non hanno alcun obbligo di comunicazione o di pubblicazione. Ultimi giorni di attività per i sette sportelli aperti da fine gennaio è distribuzione la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa attenzione per garantire ascolto e vicinanza ai territori colpiti dall'ondata di maltempo di Abruzzo e Marche. In tre mesi di attività sono stati 10.000 i cittadini che si sono rivolti ai consulenti per ricevere assistenza nella presentazione delle domande di rimborso. Gli sportelli stanno concludendo in questi giorni la propria attività è calato l'afflusso dei clienti perché ovviamente molti hanno già depositato le proprie istanze. Venerdì 28 sarà l'ultimo giorno di attività degli sportelli di Pescara Teramo Chieti Vasto Lanciano e Giuliano e Ascoli Piceno. Nella giornata di lunedì 24 aprile gli sportelli saranno chiusi mentre il 26 e il 28 saranno aperti con orario dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30 Per presentare le richieste restano disponibili gli altri canali il sito di edistribuzione e poi anche la pec edistribuzione altra notizia sarà operativo da domani sabato 22 aprile presso la sede della delegazione comunale di Castellalto al polifunzionale lo sportello di mediazione familiare attivato dall'Unione dei Comuni Colline del Medio Pomano grazie ai fondi del piano regionale di interventi a favore della famiglia a darne notizia il neoeletto presidente dell'Unione dei Comuni il sindaco di Canzano Franco Campitelli l'apertura dello sportello di mediazione familiare dichiara Campitelli a servizio di tutti i residenti dei comuni dell'ambito sociale numero 3 fino Vomano un importante risultato raggiunto dall'Unione dei Comuni per ampliare la rete dei servizi sociali cambiamo argomento si chiama una cena per ricominciare dell'iniziativa che ha messo in campo l'associazione Qualità Bruzzo per aiutare i dipendenti superstiti dell'hotel Rigopiano di Farindola distrutto lo ricorderete da una valanga lo scorso 18 gennaio in cui persero la vita 29 persone i dipendenti intendono riaprire una attività turistico-ricettiva a Farindola e i migliori chef d'Abruzzo sono scesi in campo organizzando una serata di gala il cui intero ricavato sarà messo a disposizione della nuova start-up una serata di gala con un menù stellato 100 euro di contributo per partecipare ad un obiettivo importante aiutare i dipendenti che sono sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano in cui hanno perso la vita 29 persone a rilanciare un'attività turistico-ricettiva a Farindola l'evento organizzato dall'associazione Qualità Abruzzo si terrà giovedì 27 aprile al ristorante L'Ergar della Reserve di Caramanico Terme in provincia di Pescara ai fornelli ci saranno tutti i migliori chef della regione Abruzzo che per questa occasione uniscono le forze per dare una mano ai colleghi rimasti senza lavoro e vogliosi di cimentarsi in una nuova avventura imprenditoriale l'intero ricavato della serata sarà consegnato nelle mani del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta Davide Pezzuto chef del D1 di Montepagano Questa iniziativa è stata fatta per aiutare questi ragazzi che vogliono ricominciare e vogliono insomma avviare un'attività ristorativa alberghiera a Farindola quindi noi che siamo dei colleghi ci sentiamo in dovere anche in piacere di fare questa cena che costerà 100 euro però sarà tutto devoluto all'iniziativa di questi ragazzi che vogliono ricominciare a testa alta nella loro passione il menù sarà ricco di cose buonissime io farò un antipasto diciamo però non voglio non voglio dire altro perché voglio lasciare insomma la curiosità però sarà un ottimo menù ci sarà presente Peppino Tinari Marcello Spadoni Nicola Fossaceca del metro Ferretti Sandro Ferretti insomma tante eccellenze abruzzesi tutte riunite per questo bellissimo evento ogni ristorante si sta facendo aiutare dal proprio fornitore in modo che veramente tutto 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 l'incasso possiamo devolverlo in questo aiuto diciamo quindi noi siamo tutti lì dovete venire anche voi dovete partecipare numerosi vi aspettiamo Do di Battaglia dei Pue la star della festa in onore della Madonna dello Splendore a Giulianova si parte con la banda musicale oggi e poi domani l'attesa processione della statua che partirà dalla chiesa di San Flaviano per arrivare al santuario dei Frati dove verrà celebrata la Santa Messa dal Vescovo per problemi di sicurezza invece non si svolgeranno i tradizionali fuochi pirotecnici sul lungomare quali sono le novità per questa edizione 2017 più che novità diciamo che sono dei dispiaceri non novità nel senso che noi avevamo programmato anche i fuochi piromusicali ormai una tradizione purtroppo sono stati negati proprio due giorni fa questo è il lato negativo diciamo altrimenti la novità diciamo che viene dall'artista abbiamo Do di Battaglia come artista come cantante poi le due bande tradizionali pugliesi quelli di Conversano e di Francavilla Fontana poi a seguire per la processione la banda di Angarano e via via il concerto di ragazzi che fanno lo spettacolo domani sera cosa rappresenta per il popolo giuliese questa festa? ma i festeggiamenti di Maria Santissima dello Spendore è una tradizione che dura dal 1557 un po' decaduta negli ultimi anni fino all'81 poi ripresa e rimessa su dopo l'81 fino ad arrivare i giorni nostri dove sono stati qui tutti i migliori cantanti di Sanremo quindi tutte le varie manifestazioni le più grandi bande internazionali e le bande le bande pugliesi che effettivamente fanno da cornici a questa questa manifestazione sì la Madonna è apparsa all'umile contadino Bertolino proprio dove sorge il convento non è una è una una tradizione veritiera per cui diciamo che in linea di massima i giuliesi ci tengono tantissimo a questa apparizione ed ora siamo alla pagina dello sport venerdì insolito di riposo per la Roma che si sta preparando alla partita di lunedì sera all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara per il Delfino invece seduta singola di allenamento questa mattina al Poggio degli Olivi Zeman dovrebbe affidarsi alla coppia coda Bovo al centro della difesa visto le non perfette condizioni di Stendardo e Campagnaro al centro dell'attacco invece si rivedrà Baebek con lui nel tridente ci sarà uno dei tanti ex Gianluca Caprari che conferma che se dovesse segnare esulterà è una partita come le altre sicuramente come ho detto già in precedenza la società che mi ha cresciuto quindi è una partita magari un po' diversa ma emozioni zero avevi segnato nella gara d'andata quel gol non era bastato però per evitare la sconfitta se dovessi segnare lunedì sera all'Adriatico esulterai oppure no? Sì come già ho detto all'andata esultavo l'ho fatto e si è esulto lunedì esulto ma c'è qualche sassolina dalla scarpa che ti vuoi togliere? No nulla loro hanno fatto le loro scelte se sono qui e comunque sono un giocatore dell'Inter devo solo ringraziare loro che magari mi hanno lasciato libero è una partita tra l'altro che vedrà diversi ex nel Pescara tu Zeman Verre Crescensi cercherete comunque di fare uno sgambetto proverete quantomeno a fare uno sgambetto alla Roma? Sicuramente come ogni partita proveremo a fare il massimo magari per noi è uno stimolo in più visto che comunque ci siamo cresciuti ma non siamo rimasti lì sulla carta è una partita quasi proibitiva per voi però giocherete ormai con la mente sgombra perché c'è poco da chiedere al campionato se non quello di chiudere la stagione in maniera dignitosa Sì sicuramente è una partita difficile ma abbiamo dimostrato magari nelle ultime partite come con il Milan magari con la Juve di poterci stare magari con un pizzico di più di attenzione riusciremo a fare qualcosa di positivo sicuramente lo conoscete del mister penso che si sa è un'attore che comunque lavora molto sulla corsa i primi giorni e devo dire che in queste settimane si sta vedendo anche sul campo siamo più corriamo molto di più rispetto a prima quale giocatore Gianluca Caprari toglierebbe la Roma di Spalletti per la gara di lunedì ne toglierei un bel po' da Nengolana Diego e Salah penso che sono i tre giocatori che fanno fare il salto di qualità alla Roma siamo in Lega Pro adesso il Teramo continua a preparare la partita importantissima di domenica pomeriggio all'Elvia Recina contro la Maceratese nonostante il caos societario ai giocatori marchigiani è stata pagata una mensilità arretrata ieri sera c'è stato anche un comitato spontaneo di tifosi che ha consegnato all'allenatore la somma di 5.000 euro per pagare di steward in casa Teramo invece il tecnico Golotti pensa al 4-3 come modulo da proporre a Macerata mentre il portiere Narciso ritiene ancora possibile la salvezza diretta dunque senza passare dai play-out sentiamo ma sinceramente no allo stato attuale ti dico no perché ci sono ancora tre partite ci sono nove punti e facendo nove punti c'è la salvezza matematica credo quindi allo stato attuale ti dico che io a play-out non ci sto pensando e penso anche ai miei compagni di squadra quindi perché pensare quando ancora c'è la possibilità di fare un'altra strada io la vedo così stiamo tutti quanti cercando abbiamo cercato di fare qualcosa in più per cercare appunto di tirarci fuori la situazione che c'era e che c'è ancora perché alla fine non è cambiato tanto hai fatto qualche passo in avanti però alla fine la classifica dice ancora che sei nei play-out capisco che giustamente quando si entrano in situazioni difficili non è facile cercare e trovare la cosa positiva però purtroppo noi giocatori per primi dobbiamo farlo e l'abbiamo sempre fatto siamo anche in un periodo di campionato finale dove ci sta che può subentrare un po' di stanchezza però purtroppo non deve essere il nostro caso noi dobbiamo cercare di correre più degli altri il problema è questo io non la vedo non entro nell'ambito tecnico perché alla fine c'è il ministro e c'è chi di dovere che deve giustamente cercare di trovare la mossa più giusta io mi farisco troppo dal punto di vista fisico dal punto di vista dell'attenzione della mentalità e su quello penso che ognuno sta dando il massimo poi ripeto in questa circostanza ci sta di incappare in situazioni non dico di blackout però il peso si sente anche a livello fisico mentale si sente ecco l'associazione amici del calcio teramano in collaborazione con l'università di teramo ha istituito la prima edizione del premio Carmine Rodomonti in ricordo del noto direttore sportivo di livello nazionale la cerimonia di consegna si svolgerà lunedì 24 aprile alle 17.30 nell'aula magna dell'università di teramo e sarà proceduta da un convegno sul ruolo del direttore sportivo all'interno delle società di calcio l'università di teramo ospita la prima edizione del premio Carmine Rodomonti istituito dall'associazione amici del calcio teramano per ricordare un personaggio che ha fatto storia a teramo arbitro e direttore sportivo di livello nazionale chi era Carmine Rodomonti? Carmine Rodomonti era un grandissimo dirigente sportivo che ha prestato la sua opera sia nel mondo arbitrale che nel molto calcistico ha cominciato come arbitro è stato uno dei fondatori della sezione arbitri di teramo unitamente al compianto dottor Basile ha formato generazioni di arbitri è stato lui stesso uno dei più grandi protagonisti come categoria raggiunta infatti ha arbitrato in serie B per questa prima edizione il premio Rodomonti andrà a Giorgio Rumignani giocatore ed allenatore che ha condiviso tante pagine importanti del calcio teramano che significato ha questo premio? diciamo questo è un premio che si innesta in tutta una serie di iniziative che la nostra associazione noi amici del calcio teramano ha inteso promuovere per evidenziare quelle che sono state le eccellenze del calcio teramano cioè i personaggi che hanno dato lustro alla nostra città sotto il profilo dello sport calcistico e tra questi sicuramente c'è Carmi Rodomonti che è stato una pietra miliare nell'ambito del calcio teramano a tutti i livelli sia professionistico che direttantistico abbiamo inteso quindi voluto ricordare la sua memoria la sua opera il suo talento soprattutto in un momento come questo in cui Teramo necessita di questi personaggi il calcio quanto è importante per una provincia un capoluogo come Teramo? beh diciamo è molto importante perché il calcio non è solamente espressione di un'attività sportiva è soprattutto economia soprattutto immagine soprattutto sociale rapporti informazione con la stampa informazione con il mondo della cultura e in questo caso anche con il mondo del lavoro considerando che la figura del direttore sportivo che noi oggi intendiamo in qualche modo enfatizzare con questa nostra iniziativa è una figura importantissima nel mondo del calcio una figura che deve essere leale ed onesta sicuramente sì è il punto di riferimento tra gli sportivi tra i calciatori tra il pubblico la stampa la società e quindi necessita di grande trasparenza di grande competenza di grande capacità e di grande intuito è tutto anche per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie a tutti